Facciamo un gioco. Vi ho detto se esbolliamo di individuare quali sono le cose di mangiare che non sono sani tra questi 6 in 10 secondi. Le cose di mangiare che non sono sani sono la lettera A, la lettera D e la lettera E. Vi ho detto che ho detto. Bravo! Provate come ho a indovinare quali sono le cose di mangiare che sono salate in 10 secondi. Sì, pronto. Allora, via! Le cose di mangiare che sono salate? Ayerin, la lettera A e la lettera D. Vi ho visto in duvinato! Bravs!